Allora, adesso la macchina è spenta, cioè è spenta e chiusa. Io adesso la apro, è aperta. Adesso, se chiude una volta, chiude e non ci sono problemi, fra poco si spengono le luci e quant'altro. Adesso, se io la riapro e la chiudo per quattro volte, fa questo rumore. Normale? Non lo so.